Sospesi come siamo tra la quarta ondata e la terza dose, mentre i contagi e i ricoveri hanno ripreso a me a crescere, i numeri italiani restano comunque i migliori d'Europa. Non è certo questo che capita a caso, non è una magia, è il frutto del tanto lavoro fatto e di quello che tutti ormai stanno indicando e individuando come il metodo italiano. Ciò nonostante l'emergenza sembra essere la nuova normalità. Noi non vogliamo che sia così, vogliamo che l'allerta ci sia, ma vogliamo che la nostra comunicazione continui ad essere come voi ci avete certificato col vostro fedelissimo ascolto. Vi ringrazio sempre sana e congrua per questo, per non sbagliare in un momento così particolarmente delicato, chiediamo come sempre la saggia professionalità e credibilità del nostro amico del vostro amico, che è il professor Roberto Cauda, che ancora una volta fa il capolino nel prendersi cura, infettivologo al Policlinico Gemelli di Roma. Ancora una volta grazie dunque professor Cauda, ormai lei è di casa qua con noi. Grazie, è veramente un onore e un piacere stare con voi, perché sì, effettivamente come lei ha detto la situazione è molto delicata, l'Italia è un'isola, non posso definirla felice, ma è un'isola comunque in un'Europa che sta vivendo la quarta ondata e come lei giustamente ha detto tutto questo non è frutto del caso, ma è frutto di una politica oculata nelle riaperture, nell'uso del Green Pass, nell'avere stabilito, primo paese al mondo, l'obbligatorietà per operatori sanitari e chi lavora nelle residenze assistite e poi, mi permetta di dirlo, per lo straordinario lavoro fatto dal commissario straordinario generale Figliuolo e dal suo staff che ha consentito la messa in sicurezza di milioni e milioni di italiani. Professor Cauda, lei ha citato alcuni strumenti che stiamo utilizzando, era proprio la prima domanda, gli strumenti che attualmente ci difendono dalla infezione, secondo lei in questo momento sono sufficienti, non c'è bisogno d'altro? Sì, sono sufficienti, forse ci sarebbe bisogno di qualche cosa d'altro che non è nuovo, ma è antico, mi riferisco all'uso delle misure di prevenzione, noi ci siamo cullati un po' sulla base dei numeri che abbiamo visto nella tarda primavera-estate, anche se in estate, come lei ricorderà, c'è stata comunque una ripresa di contagi, ma comunque al di là di questo dobbiamo vincere quella stanchezza da pandemia che ci ha portato progressivamente, inconsciamente talvolta, ad allentare e abbassare la guardia, noi dovremmo utilizzare di più la mascherina, dovremmo evitare gli assembramenti, dovremmo essere molto più puntuali nell'osservanza delle misure di prevenzione, quindi non c'è nulla di nuovo o di straordinariamente sconvolgente da attuare se non mettere in atto quello che già sappiamo. Forse questo è l'unico punto un po' delicato che andrebbe bene fosse stressato. Senta professore, senza che entriamo nel merito della qualificazione da dare a certi strati dei cosiddetti no vax, no pax, non green pass, quello che vuole, c'è però ancora un ocio abbastanza duro di incerti, di dubbiosi e forse anche un po' con la confusione che certi suoi colleghi stanno facendo, dando un'informazione e poi stracciando per darne subito un altro, contribuiscono anche ai dubbi di chi ancora non si è vaccinato, cosa dire a queste persone? Sì, innegabilmente ci sono tre gruppi, i favorevoli al vaccino che sono la stragrande maggioranza, i no vax che sono una minoranza, sono quelli ideologicamente contro i vaccini, oggi contro Covid-19, ieri contro il vaccino per il morbillo, contro le vaccinazioni obbligatorie, si stima cambiano da paese a paese ma siamo dal 5 al 10%, per me in Italia siamo più vicini al 5% ed è un qualche cosa che probabilmente neanche una vaccinazione obbligatoria riuscirebbe a convincere. Poi ci sono la rimanente parte, che anche qui oscilla in percentuali del 20-30%, in qualche caso anche di più, di esitanti, cioè sono quelli che in qualche modo non sono contrari al vaccino, magari si sono vaccinati per altri tipi di vaccino, ma forse per una serie di informazioni, non dico non corrette, ma magari che sono state malinterpretate, magari sono state anche veicolate non in maniera precisa, sono esitanti e aspettano per vedere, però è un'attesa molto pericolosa. La terza, beh io lo chiamo il richiamo eventualmente, se proprio bisogna definirlo, ma ancora pochi entusiasti, bisognerebbe forse fare qualcosa di più, forse ci siamo dimenticati di quello che abbiamo vissuto. Con la terza dose secondo lei si dovrebbe consolidare la nostra protezione, anzi oggi bisognerebbe dire, visto che si ha certezza della caduta immunologica, bisognerebbe assolutamente farla la terza dose. Io lo vado a fare lunedì mattina, professor Cauda. Benissimo, perché lei fa la terza dose, io l'ho fatta 20 giorni fa insieme alla vaccinazione antinfluenziale, quindi sfatiamo il mito che le due vaccinazioni non si possano fare. La terza dose è necessaria, non solo opportuna, è necessaria. Lo dicono i dati di Israele, Israele come lei ricorderà e come ricorderanno chi ci sta guardando in questo momento, ha fatto uno sforzo gigantesco nel vaccinare milioni e milioni di persone in un tempo brevissimo, grazie a un sistema sanitario veramente capillare ed eccezionale, nella primavera scorsa. Si c'è accorti che l'immunità svaniva, la cosiddetta vanishing immunity e determinava un aumento di infezioni, si è partito dando la terza dose o il richiamo evidentemente alla popolazione over 60, visto i risultati eccezionali si è passati dopo a tutta la popolazione. Indubbiamente la terza dose è efficace da 40 anni in su, secondo i dati di Israele, al di sotto forse l'efficacia di questa ulteriore dose non è così evidente, però questa terza dose stimola il sistema immunitario e quindi è opportuno che queste percentuali che sono ancora troppo basse vengono presto a inalzarsi perché questo è il momento di giocare una partita decisiva col virus e si gioca giocando la carta della terza dose. Quindi lei rimarca la assoluta, conferma in modo assoluto che il vaccino è la vera arma, le chiedo questo perché all'orizzonte, e la prego di darcene un poco di illustrazione concreta, ci sono questi farmaci che arriveranno che dovrebbero aiutare a farci convivere con il coronavirus. Che tipo di farmaci sono, professor Cauda? Sono due, uno prodotto dalla Merck che è il Monupiravir e che forse è addirittura d'arrivo prima dell'altro, prodotto da Pfizer, che si chiama Paxolovid. Sembrano quasi due scioglilingua, sono due farmaci antivirali che agiscono in due punti differenti della replicazione del virus, uno inibisce la replicazione del virus a livello dell'RNA, l'altro inibisce l'assemblamento delle proteine, è un inibitore delle proteasi. La Monupiravir, di cui abbiamo visto i dati, riduce se preso nei primi 5 giorni del 50% il rischio di ospedalizzazione e morte, l'altro quello di Pfizer, che è ancora un po' in fase più tardiva per quello che attiene la presentazione agli organismi di controllo, la ridurrebbe dell'89% sia a ospedalizzazione che all'evento morte. Anche qui vanno presi nei primi 5 giorni. È chiaro che prevenire è meglio che curare, quindi certamente sono due farmaci importanti che affiancano gli anticorpi monoclonali, anch'essi molto importanti di cui già disponiamo da alcuni mesi, però non vorrei che passasse un discorso molto pericoloso. Io non faccio prevenzione, non mi vaccino perché tanto c'è il farmaco che mi aiuta. Questo è un discorso molto pericoloso perché innanzitutto il virus continua a circolare e poi i farmaci li vedremo nella vita reale se verranno confermati in questi risultati così importanti che abbiamo visto. E poi, evidentemente, ripeto ancora una volta, prevenire è sempre meglio che curare in tutte le malattie, complesso Covid-19. Giustissimo fare questa sottolineatura. Ancora di più allora forse merita questa sua riflessione. Se ricordiamo che sul mercato stanno per arrivare quelli che sono chiamati i vaccini proteici. Il primo vaccino di nuova generazione dovrebbe essere questo Novavax. Ho visto che ne ha parlato qualche telegiornale, qualche giornale, ma sicuramente prossimamente sarà oggetto di discussione. Cosa sono di preciso? Il Novavax, che è il primo di una serie di vaccini proteici, si tratta di vaccini che non sono genici, cioè non fanno produrre lo spike dall'RNA o dal DNA nel caso dei vaccini Pfizer e Moderna, del caso di AstraZeneca e Johnson dal DNA e Sputnik con l'adiuvante dell'adenovirus, ma vengono date delle nanomolecole, delle proteine in cui lo spike viene già dato preformato. A questo punto il problema è che potrebbe essere un'arma per convincere quel gruppo di esitanti che quando sentono genetica strabuzzano gli occhi e dicono ha il problema del DNA, del virus, chissà cosa mi succederà. Io leggo in positivo questi nuovi vaccini perché oltre allo spike, Novavax ha solo lo spike, ma stanno per arrivare vaccini che non solo contengono lo spike, ma anche la nucleoproteina che è un altro componente del virus, la membrana e noi sappiamo che il soggetto che si ammala produce una risposta verso tanti componenti del virus, non solo lo spike e questo rende più efficace e più duratura nella risposta immunitaria dopo la somministrazione addirittura di una sola dose di vaccino. Quindi benvengano i nuovi vaccini che forse ci aiutano, ma guardando se non a domani, al dopodomani ci sono anche i vaccini orali, quei vaccini che già vengono sperimentati in Sudafrica, un vaccino israeliano, che oltre che stimolare una risposta di tipo sistemico, danno anche una risposta di tipo locale. Per gli esitanti io credo che sono veramente pochi gli argomenti a non vaccinarsi. A breve c'è il Santo Natale e tutti lo stanno in qualche modo attendendo, sperando che porti come se non solo un fanciullo in quella greppia, ma anche qualche buon miracolo. Secondo lei, Professor Cauda, che Natale potremmo passare? Un po' più sereno? O è credibile quella nuova ondata di cui si parla proprio a Natale? Io ero talmente ansioso di rispondere per rassicurare i telespettatori che non ho neanche aspettato che lei formulasse per intero la sua domanda, che è completa e ha un senso anche compiuto al suo ragionamento che condivido appieno. Mi permetta di fare un passo indietro di 12 mesi. La nostra realtà di oggi è in maniera completamente incommensurabilmente diversa da quella che era un anno fa. L'Italia era a colori, giallo, arancione, rosso, temevamo nuovi lockdown, c'erano i copifuoco. Voi mi state intervistando dal Veneto, che è una regione che in questo momento ha una criticità superiore alle altre, ma comunque la situazione, grazie agli interventi della regione, è ancora sotto controllo e io credo tale rimarrà. Evidentemente il Natale, come Ferragosto, come l'estate, la Pasqua, sono delle scadenze che hanno in qualche modo contraddistinto questa pandemia fin dal suo esordio. Noi dicevamo il Natale del 2022, anzi non lo dicevo io, lo diceva Tony Fauci, con cui ha avuto l'onore di lavorare all'inizio degli anni 90, il Natale sarà senza mascherina. In effetti è diverso ed è senza mascherina, almeno all'aperto. Quello che ha un po' sparigliato le carte e ha anche impedito che con oltre l'80% si raggiungesse l'immunità di comunità o l'immunità di gregge, anche senza vaccinare l'età pediatrica, è stata proprio l'introduzione della variante Delta. Un anno fa noi fronteggiavamo la variante Alpha, cosiddetta variante inglese. La nuova variante, la cosiddetta variante indiana, è molto più trasmissibile e quindi con questa dobbiamo fare i conti, però l'uso oculato dei vaccini, se abbiamo le misure di prevenzione fortemente in atto, le manteniamo fortemente in atto, grazie ai farmaci che stanno per arrivare, se noi facciamo in maniera veloce la terza dose, mi permetta di fare una previsione, il 2022 potrebbe essere veramente l'anno di svolta. Grazie al professor Roberto Cauda come sempre, abbiamo citato il Natale, promettiamo che prima di Natale noi ci sentiremo per fare ancora il punto e per farci soprattutto gli auguri e poi c'è questo 2022 che per tutti, vedo che anche lei è d'accordo, dovrebbe essere veramente l'anno della svolta. Saremo ancora qua insieme a documentarlo, professor Cauda. Certamente sì. Grazie e buon lavoro, buon lavoro davvero. Grazie a voi come sempre, complimenti per la trasmissione. Grazie professor Cauda, a presto. Grazie a voi soprattutto per l'ascolto e l'attenzione, sempre più fedele, noi cerchiamo di meritarcela come sempre, a domani immancabilmente. Prendersi cura, temi e scenari di salute. Un programma curato e condotto da Claudio Capitini. Grazie a tutti.